Dovrebbe essere il rifugio ideale, quello in cui sentirsi lontano dalle difficoltà della vita quotidiana. Eppure molto spesso la famiglia rappresenta per donne e bambini un luogo di violenza e maltrattamenti. Per riflettere e confrontarsi sul tema, l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Napoli, in collaborazione con il Centro di Contrasto alla violenza familiare Il Girasole, ha promosso un seminario di studi sul sistema di servizi integrati nel contrasto alla violenza intrafamiliare. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di promuovere e potenziare le buone prassi ed offrire percorsi di sostegno alle famiglie, in sinergia con i centri di servizio sociale attivi sul territorio, i servizi sociosanitari e gli operatori del terzo settore. Si tratta di un fenomeno molto presente dentro le famiglie. I fenomeni di violenza si registrano soprattutto nell'ambito della famiglia, riguardano prevalentemente donne e minori. Il Centro fornisce da questo punto di vista non solo un punto di riferimento per le denunce, ma anche per essere sostenuti in percorsi di aiuto. Mettiamo a disposizione competenze importanti, mediatori di conflitti, mediatori familiari, ma anche psicologi ed è un'attività che realizziamo di intesa con altre istituzioni, il Tribunale dei minorenni ma anche l'azienda sanitaria locale.